Ciao a tutti, io sono Vittalandia, mi dico un nuovo video, come sempre prima di cominciare, sigla! Allora, oggi sentiamo la mia... come l'ha detto a Tito, sentiamo una parte del mio armadio, ovvero dove sono vestiti, faccio vedere come sempre prima, adesso, come adesso, e niente. Sì, sì, vi faccio vedere, mi sono un po' perso, vi faccio vedere il mio disordine. Ecco voi il mio disordine! Adesso tocca tutto, metto tutto sul letto e cominciamo! Allora, questo è tutto quello che ho tolto adesso, ma in realtà c'è anche tutta questa da togliere. Dall'altro ho finito. E un altro è così. Loro ho messo tutta roba vernale e anche un po' estiva, dove non è roba, non è roba, roba, non so dire, normale di tutti i giorni. Allora, invece qua metto le camicie, le poche camicie che ho, vero due. Adesso vi faccio vedere, prima, adesso, cosa ho fatto, gran radio. Ho messo la roba di tutti i giorni modernale. Sopra, verso il sotto, ho messo due camicie che ho. E lì sono i pantaloni del nani dell'altro video che ho fatto, dove ho chiamato l'altro. Amadio, l'anta dell'armare. Questo video si chiude qua, quindi se il video vi è piaciuto mettete un like, effettivamente al canale. E se vostra vita è grigia, suoi direte perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!